Grazie a tutti i miei amici, abbiamo un po' di morire, ma rappresentate tutti quei che non possono essere presenti. Prima di tutto rappresentate il Presidente della Palestina, il Abomazen, rappresentate i pilgrimati, anche i nostri rappresentanti sono diverse parti della Diocese, la Città, la nuova, la nuova della Palestina. Grazie a tutti i nostri rappresentati, non sono i pochi che possono essere presenti qui oggi. Quindi tutti voi rappresentate a qualcuno, il suo cuore, il suo cuore, ora prego per tutti, per tutti quei che non possono essere presenti qui. Grazie a tutti i nostri rappresentati a tutti i nostri rappresentati a tutti i nostri rappresentati. Grazie a tutti i nostri rappresentati, i nostri rappresentati a tutti i nostri rappresentati. e la notte del buon mondo. Tutti svegliati, 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 anche compresi per troppo lungo sotto l'esplice di questa pandemia che svegliamo le nostre le cose, paralizzando le relazioni, mettendo la politica, l'economia, la cultura e la società a un testo severo. Anzioni strutturali le riepidioni hanno amplificato, che non sembrava più ricchi e chiave soluzioni randomano attrapevano punto di vista. Anche i 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 i. I l'esplice steggiano a mantenere a distincendere le ritme e non potrebbero immagini a觉arvi il nuovo che va arrivare. non potevamo presto a presto a presto, ma anche ora non presto a presto a presto. Molti, meglio che io, hanno in recenti mesi cercato di analizzarlo, immaginare in futuro scenari, imparare la situazione di più o meno oscuro. Ma, nel mio primo Christmas di Massa di Patriarcha non voglio dare una voce a quelli che conoscono bene come descrivere la night. Devo dare una voce a la prophesia, a raccogliere il Gospedale, a comunicare la grazia di questa sera a voi. Sì, ragazzi e ragazzi, perché ciò che viviamo qui è un'ora di grazia. Non è una pious delusione, non è un escapamento romantico in una relazione religiosa o una consapevolezza. Abbiamo appena ascoltato. Un figlio è nato per noi. Un figlio è nato per noi. Un figlio è nato per noi. Questa è la sicurezza di Cristo. La notte, ogni notte, non è l'ultima vera nella nostra storia e quella dell'umanità. Se lui, che è la luce di la luce, è nato per la luce, allora la luce in itself è nato per il giorno. In questo modo, la notte è nato per la luce. È nato per la luce di nuove, come una nuova, come una nuova, come una nuova. Ci siamo cristiani, che a la parte della nostra crisi, in la nostra scuola, in la nostra scuola, in la nostra scuola, in la nostra scuola, che Cristo lo ringe per la luce come giusto, può e vuole trasformare la morte in la vita, la paia in la speranza, la paia in la trascione. La ricerca in lui, non è stata una realtà parola, ma avere un'unitaria profondamente per noi sentire per noi farlo il pello del land come la paio della scuola. La credenza è di continuare a lavorare non solo con la tenacità di quelli che non hanno mai dato, ma con la credenza di quelli che aspettano e stavano per la loro amore. La grazia di Dio ha avviato, portando salvezza a tutti, come ho parlato nel secondo video. All'inizio è una storia di Dio, la sofferenza e la morti non sono i suoi attori, ma è un'unica modo da dire che sono i suoi attori. Se l'Ivice abbonca, la grazia abbonca ancora più, operano in mente e le nostre, insegna in nuove le strade, spese, spero e vita. Ciò che succedono qui, 2000 anni fa, non è una storia o una storia o una mita, ma un inizio di una nuova storia di cui, se noi lo vogliamo, possiamo essere uccisi. Una misteriosa ma reale presenza fa il mondo. La vita che si tratta qui in Bethlehem ha defattato la morte e ci autorizza a sperare per la victoria che ancora si tratta. La speranza nella grazia di Cristo non è deludere uno, ma è trovare ragioni per commettere uno a un nuovo mondo. La pandemia, con la sua morta di sofferenza e morta, ci ha chiesto di immaginare un mondo diverso, creato di nuova solidarietà e relazioni fraterniche, dove il possesso è riempito da dare, e la famiglia di alcuni si tratta di un beneficio per tutti. Il Gesù che abbiamo parlato, oggi, è stato chiesto per noi il Saviore, che è Christo il Signore. C'è una salvezza, una salvezza, e ha una faccia e una nome di Gesù Cristo. Gesù Cristo è il Signore di Dio, il Signore di Dio, e la gloria del Padre, che, con la sua miseria, ha voluto comprare i nostri sorrisi e i sorrisi fino alla morte. Gesù Cristo è il Signore di Dio e il Signore di Dio e il Signore di Dio e il Signore di Dio. Gesù Cristo è stato chiesto di fare il Signore di Dio e Dio, insegnandoci che non ci sia una salvezza di solito di amore, giudere e ricevere. Gesù Cristo è il Signore di Dio e Dio e Dio e l'Evola. be protected from these and all other crises and disasters, only if we make good of all our supreme interests. The Christmas of the head is the Christmas of the body, writes on the other great. We have realized in this tragedy that we are all connected and that we are responsible for each other. The Church, the body of Christ, has always known this. The Savior who was born today makes us also reborn to the awareness that we are all children and therefore all brothers and sisters, as the Holy Father reminds us. And for this reason, love is the only correct way of salvation. Love is the only correct way of salvation. Brothers and sisters, tonight we do not want and we cannot forget the suddenness and worry that breaks the world's heart as an advice. Even here, in our holy land, we are no exception, a lot of worries. We live in a land with plurality and openness to the world as its vocation, but we continue in witness opposite attitude. Instead of being inclusive, we are increasingly exclusive. Instead of recognizing each other, we deny each other. we are in the fact that we are in our holy land, we are in our holy land. We are also in the holy land, and we are also in the holy land, as Mary and Joseph, who did not find place in the inn, there seems to be no place in the world, continually invited before being able to live with dignity in their home, to await an unknown and repeatedly postponed future. ma a Christmas non c'è tempo e non c'è tempo per l'illusione non vogliamo e non possiamo anche ricordare che con la bianca di Cristo Dio stesso entrò il mondo direttando il suo passaggio verso un futuro di felice e di pazza Amid our fears, we want to grasp the hand that Christ offers us for a new journey of trust, hope and love Therefore, we tonight want to contemplate him with the shepherds sing to him the angels welcome him with Mary and Joseph offer to him with the magi the incense of our difficult faith the mirror of our suffering hope and the gold of our trusting love and continue the journey We ask him, almighty God, to defeat sickness, evil and death and give us back happy and serene days We want to ask him, admirable counselor to enlighten politicians, doctors and researchers and those who sincerely seek just and real solutions for the good of all We deliver to him, eternal Father, the sick, the poor, the suffering, the dead so that all may be visited by his mercy which heals, comforts, comforts, consols and vivifies We entrust for him, Prince of Peace, this land of ours and this church of ours whose wounds make it even more difficult to heal during this painful and challenging time We ask him, in grace of God made flesh to be converted from our selfishness and from our closure to good and holy thoughts and words so that our faithful and concrete collaboration corresponds to his indescribable gift We promise to give him, our Savior and Lord, what we are and have Thus, will his way be known upon the earth and his victory among all the nations Amen Merry Christmas, all of you Thank you